Ciao a tutti amici, sono io, Yulia War, e oggi, dopo il video di Kitty, sono qui per recensire Duchess One! Sono molto felice di aver acquistato tutte e due le bambole, e sono proprio entusiasta. Per fortuna, Duchess è reale, perché il mio ordine sarebbe reale e libelle, e quindi adesso potrò mettere prima Duchess e poi Kitty. Sono davvero davvero felice, e adesso vediamo meglio la scatola, perché vi avevo già mostrato le caratteristiche, le differenze con le altre scatole Ever After High nello scorso video, quindi andatelo a vedere, ma penso che le noterete da sole, però comunque adesso vi mostrerò velocemente la scatola e dopo apriremo Duchess. Sono emozionatissima! Allora, come al solito, è formata da più libri, ovvero da uno sotto e uno da questo lato. Ovviamente sono di questo dorato bianco, abbastanza carino, e ci sono sempre queste strisce, qua e qua. E stavolta il colore principale è questo viola molto scuro, quasi blu. C'è sempre 6+, e il simbolo è Ever After High. C'è sempre il simbolo dei reali, perché appunto è una reale, e c'è un semi artwork, io lo chiamo semi artwork, perché non è completamente, è sempre in questo cerchio con una coroncina. Di lato c'è scritto Duchess One, è sempre con quattro lingue, la figlia della regina Cigno, e questo mi fa pensare che Duchess arriverà in Italia, speriamo di sì. Dopo c'è qua il suo simbolo, che sarebbe un cigno, e ovviamente c'è la scritta Duchess One, in questo blu più o meno viola. Di lato ci sono sempre queste finte pagine, sempre sulla plastica, incise, e anche qua, e qua. Di lato c'è Ever After High, e c'è questo piccolo charm, non so se si nota. Eccolo, questo piccolo charm, molto carino. Dopo c'è sempre Duchess One, la figlia della regina Cigno, e il suo simboletto. Questa volta la serratura si trova in questo lato, dentro, quindi per scegliere il nostro intestino dobbiamo aprire la scatola. Allora, il di dietro è uguale a tutti gli altri di dietro Ever After High. C'è sempre disegnato Ever After High, e ci sono tanti cuoricini, con anche scritto qua, storia inclusa. Dopo ci dice, e tu, segui il tuo destino, lo riscrivi? E qua la D di Duchess, e ovviamente è stilizzata nel modo di essere di Duchess. Infatti possiamo notare che c'è un fiocchetto, poi il cigno nero, e anche il cigno, diciamo, mezzo bianco. E dopo ovviamente in italiano ci racconta un po' di Duchess. Dice, Duchess è sia l'incantevole e grezzetto cigno bianco, che è il tenace e competitivo cigno nero. E dice che i suoi migliori amici sono Fibel Thorn, che si assomiglia, si piglia. Questa Fibel Thorn è un nuovo personaggio Ever After High, che sarebbe la figlia della strega della bella addormentata. Quindi, diciamo, che è un nuovo personaggio, di cui è uscita anche la bambola, ma ancora non proprio, non si può trovare. Ovviamente sotto ci racconta, anzi ci dice, non racconta, di Ever After High.com, di andare sul sito, guarda gli episodi. E poi di lato ci mostra le altre tre Ever After High nuove, ovvero Lizzy, Kitty e Ginger Breadhouse. Quindi Lizzy, diciamo che tra le ultime tre Ever After High che ho recensito, ovvero Dexter, appunto Lizzy e Cedar, diciamo che Lizzy è la più nuova. Quindi prima c'è Cedar, poi Dexter e infine Lizzy. Di queste abbiamo recensito, anzi ho recensito Kitty e Lizzy e adesso manca Ginger, che prima o poi prenderò e recensirò, già. Speriamo di trovarla presto, appunto, e questa sarebbe la figlia della strega di Hansel e Gretel, sì. Bene, adesso apriamo la scatola, per fortuna è sempre semplice aprire queste scatole, anche se sono abbastanza cambiate. E ovviamente c'è bisogno di l'aiuto delle forbici, perché ci sono delle parti difficili da tagliare. Ci vediamo tra poco. Notare lo sfondo dove c'è il cigno bianco e anche il cigno nero riflesso e anche delle scarpette, davvero davvero carine. Ha ovviamente la sua spazzolina, che, mamma mia, che è argentata, come anche il suo stand. Una cosa che mi sembra strana è che tutti gli stand stiano diventando argentati. Non vorrei che anche alle reali, come per esempio adesso Duchess, siano anche argentati, perché è almeno una distinzione tra reali e ribelli. Cioè, oro e argento mi sembrava carina, visto che ormai nessun Ever After High avrà più lo stand del proprio colore. Però, ok. Allora, ovviamente arriva anche con il suo diario Duchess, che secondo me per ora è bellissima. E ovviamente il suo simbolo sono delle scarpette. Poi ha anche la sua corona, perché è una reale. E qua c'è il suo piccolo diario in italiano, con sempre la D trasformata nel suo modo di essere, insomma, nella sua fiaba. Ok, adesso vediamo meglio Duchess, iniziando dai capelli. Come possiamo notare, Duchess ha tutti i capelli tirati in una coda verso l'altra parte, ecco. Ed è un po' ricciata, anche un suo ciuffetto, che è attaccato al braccio e che io lascerò, in modo tale che non si rovini tanto. Ed è abbastanza carino. Come possiamo notare, i suoi capelli sono neri, con qualche ciuffo bianco e rosa. Ed è, secondo me, davvero carino. Sul davanti ha questo, come penso sia una coroncina, una cosa del genere, un frontino. Che, come possiamo notare, ha una piuma nera e poi questo copricapo, che mi ricorda un po' quelle cose asiatiche, è abbastanza carino. E ha questo, formato da fiori, rosa, e anche delle piume, che si trovano anche qua, qua, e poi ha un diadema al centro. Ed è davvero carino. Anche i suoi orecchini e i suoi oggettini mi piacciono molto, sono davvero, davvero carini. Gli orecchini sono a forma di piuma, mentre la sua collana, che è attaccata con degli elastichini, ha questo diadema al centro e tante piume. E quindi è formata da piume. Mentre il suo bracciale è questo, ed è argentato, semplicissimo. Comperò questo piccolo ciondolo, con un cigno. E anche il suo anello proprio è un cigno. Ed è bellissimo. Ragazzi, prima di continuare, vi volevo dire che ho deciso di togliere l'elastichino, perché mi dava davvero fastidio e non riuscivo bene a spostare poi il ciuffo e anche a tenere la bambola in una posizione come da ballerina, visto che Daces bala. Quindi ho deciso di toglierlo. Comunque adesso possiamo continuare la review. Allora, Daces ha questo top e ha queste spallucce nere, queste manichette nere con del pizzo brillantinato rosa. Il top è di questo viola molto chiaro, con dei decori bianchi. E ha questa enorme cintura, che mi ricorda molto quelle delle ballerine, ed è tutta nera, con due fili neri grossissimi e tante perline di lato. Ed ovviamente è removibile là dietro. Io però vi consiglio di non toglierlo, perché si potrebbe rovinare facilmente. Impostiamo un attimo la mano con il braccio. Andando avanti, attaccato abbiamo una gonna, con ben tre strati. Il primo strato è molto sottile e non ha orlo, ed è questo di pizzo, uguale a quello delle maniche rosa, con dei brillantini. Dopodiché abbiamo questo di sopra, che è bellissimo secondo me, di pizzo trasparente, con disegnate tante piume e stelline. Le piume sono bianche, le stelline nere, ci sono ogni tanto anche queste come stelle più grandi, e questi puntini sempre bianchi. Sono inoltre tutte brillantinate ed è bellissimo. Guardate anche da dietro, e secondo me è una gonna bellissima. Ovviamente è a sbuffo, e di dietro ha un altro pezzo di gonna, sempre bianco, però con dei quadretti neri. E non è orlato, questo non mi piace, perché si potrebbe rovinare facilmente, però ok. E che dire, la gonna mi piace tantissimo ed è bellissima, la vorrei io, così quasi me la faccio fare. E' insomma bellissima, guardate poi, è fatta bellissimo e non sembra fatta per una bambola. Insomma, e si abbina anche con i suoi vestiti. Ha poi queste calze a rete nere, ovviamente vere, e le sue scarpe. Le sue scarpe mi ricordano molto quelle delle ballerine, ma l'unica cosa che mi rende perplessa è come mai il tac è così? Come fare a ballare? Oh mio Dio, sono tutte nere, ed è un po' pauroso questo tacco, perché notare che va verso il dentro, quindi lei potrebbe cadere ogni singola volta. Ed è abbastanza pauroso, però se voi volete provarci, il rischio, beh, c'è sempre. Dopo davanti c'è questo fiocchetto, e ci sono poi tutte queste decorazioni davvero davvero carine. Poi, ovviamente, per renderle più, diciamo, scarpe da balletto, ci sono questi nastri, che di lato hanno un fiocchetto e sono rosa, ed è, secondo me, anche questa è una cosa carina. Questa, infine, è la sua borsetta, ed è tutta rosa di queste, penso, balze rosa, molto carine, sembrano anche un po' brillantinate, e hanno il manico con i brillantini bianco, e poi, come queste, questi, penso, adesso non mi viene il termine, quei cosiddetti fatti di fili, insomma, penso abbiate capito, con delle perline, i pompon, ecco, con le perline, e c'è anche questo cigno, non è apribile, perché d'altronde è sottilissima, e non so cosa ci possa entrare, ma ok. Spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente, mettete mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi sempre, se volete rimanere aggiornati sul mio canale, e grazie per seguirmi sempre, ci vediamo, e non so quale video farò, perché le Ever After High le ho finite, cercherò di prendere il prima possibile Ginger, scrivetemi qua sotto anche se la volete recensita, e avvisatemi, inoltre vi consiglio di iscrivervi o di seguirmi, insomma, sul mio Instagram, dove metto anche delle piccole descrizioni delle foto che faccio, insomma, è abbastanza carino, e quindi potrebbe essere interessante, grazie per seguirmi, come ho già detto, e se volete sapere come si chiama il mio Instagram, basta cercare Ever After High Julia War, quindi se un giorno troverete Ever After High Julia War, sono io, non è un tarocco, beh, ci vediamo, probabilmente farò edicola, ma non ne sono sicura, ciao!